Mario Balotelli Super Mario è un nuovo giocatore del Genoa, ogni tipo di indugio è stato rotto nell'ultimo periodo da parte del Genoa che ha scelto di, dopo una lunga valutazione, prendere a sé il grande Mario Balotelli Super Mario. Manca l'ufficialità, ancora non è certo, ma sembra che al 80-90% Genoa accetta di buon grado che Mario Balotelli diventerà un suo adepto, o meglio un suo calciato, un suo giocatore. Dunque Super Mario Balotelli torna a inseriarlo, fa con queste sue doti che noi conosciamo bene perché non passa di certo inosservato Balotelli che sa veramente arrivare al quale degli altri grazie alla sua bravura, alla sua capacità che mette a frutto in modo competente, dirompente, rompendo ogni indugio e portandosi in un livello più alto rispetto agli altri. Il risultato è tutto da godere, un risultato fantastico, clamorosamente bello e affascinante. Mario Balotelli Super Mario fa veramente grandi cose. Compie quel passo di novità, quel passo di granzia in più che è utile per lui stesso e anche per gli altri e che lo fa portare ad un livello ancora più intimo e più alto, tanto che rimane uno dei personaggi forse più centrali del calcio giocato. Dunque Balotelli al Genova. Il Genova ha fatto bene? Certo che sì. E questa è la mia opinione, sono sincero con voi. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate, ma è una bella novità anche perché Mario Balotelli torna a essere utile per un club calcistico di Serie A di Genova. Ciao a tutti e una buona giornata.